Taro Martinez E ritirano la pepermina l'amministratore delle varo scuole, Giuseppe Marotta e l'amministratore delle varo copre, Alessandro Antonelli Il sindaco Invitiamo ora a salire sul palco il direttore sportivo Piero Causini Proseguiamo con l'allenatore Simone Inzaghi Il capitano D'Ottava D'Ottiva Raggiungono ora il sindaco Jan Zomer Raffaele Di Gennaro Emile Paudeo Spermante Frank Francesco Pacelli Benjamin Mavà Diana Orel Missetto Matteo Darmiano Alessandro Bastone Alessandro Bastone Alessandro Bastone Alessandro Bastone Alessandro Bastone